ciao a tutti sono sempre io alessandro amministratore del canale commedia all'italiana ho appena finito di vedere summertime la serie netflix prodotta produzione interamente italiana uscita su questa straordinaria enorme piattaforma che è netflix il 29 aprile del 2020 questa serie di otto puntate sta tra l'altro per essere prodotta credo ora stiano per iniziare a girarla spero comunque che che tutto possa andare in porto comunque ufficiale che arriverà una seconda stagione come proprio netflix ci ricorda alla fine dell'ultima puntata della prima stagione composta da otto puntate e diretta da francesco laggi e lorenzo sportiello il motivo per cui vi sto parlando così tardi di questa serie e soprattutto il motivo per cui ho deciso di vederla così tardi è che ragazzi summertime parliamo summer il nome della protagonista ma parliamo d'estate e non potevo vederla a fine aprile a parte che ero molto incasinato nel pieno periodo covid ero molto impegnato con la scuola o testa rottore di scatola della didattica a distanza ma non non ce la facevo voi direte no non lo direte ma lo dico io hai visto odio l'estate a gennaio al cinema ne hai parlato sul canale recensione se volete la recupera potreste recuperarla se voleste di aldo giovanni giacomo che tra l'altro rivedrò in questi giorni perché appunto è a tema ho capito ma quel film 30 gennaio un conto è a febbraio un conto è a maggio insomma a maggio ho deciso di aspettare e di dunque dedicarmi a questa serie una volta iniziata l'estate ho finalmente finito di vederla sto aggiustando questo video la sera del 29 giugno voi lo vedrete domani 30 giugno e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso perché non mi aspettavo tanto da questa serie sicuramente mi aspettavo qualcosa che potesse prendermi perché chi mi conosce sa che io amo tutto ciò che mi fa che mi porta dentro di sé quindi siamo in estate e mi riempi il cuore di gioia vedere che una 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 casa di produzione così importante come netflix dia spazio in italia produzione interamente italiana a qualcosa di dedicato all'estate così come io non spetterò mai di ringraziare netflix per tutti i piccoli grandi film e anche qualche serie che ogni anno dedica al natale tra cui di nostro proprio natale a 5 stelle dedicato a carlo vanzina spendo due parole per ricordarvi che dopo domani per voi domani primo luglio uscirà proprio su netflix un'altra produzione italiana film sotto il sole di riccione scritto tra l'altro da enrico vanzina un'altra dedica a carlo c'è isabella ferrari nel cast e c'è quindi una parte di sapore di mare carlo enrico vanzina la dedicandolo a carlo lo ha definito il sapore di mare 2.0 non facciamo paragoni sarebbe impossibile ma sono molto fiducioso per questo film c'è ludovico tersegni che anche in summertime e ne ve ne parlerò quanto prima non vedo assolutamente l'ora ovviamente criticatissimo ma sti cacchi io lo voglio vedere lo vedrò e sono sicuro che lo amerò ho amato summertime per lo stesso motivo per cui credo che amerò sotto il sole di riccione c'è tanta estate c'è il sole e quindi c'è quell'atmosfera di cui ho bisogno durante l'estate così come ho bisogno di tanta neve tanto freddo e tanta però atmosfera calda contrasto con il freddo durante le vacanze le feste natalizie è una serie molto interessante potrebbe sembrarvi qualcosa di banale scontato ma non lo è assolutamente io non ho mai visto nulla di di così particolare così come particolare il nome della protagonista summer da cui poi parte tutto è un'estate molto molto malinconica è un'estate in cui ovviamente si incrociano diversi amori perché d'estate tutto è possibile ma perché soprattutto poi le stati finiscono amori non amori avventure avventure magari momentanee sono sicuro che ritroveremo tanto di questo in sotto il sole di riccione ludovico tersigno ormai totale star di netflix e idolo dei giovani ragazze e ragazzi molto criticato per il suo petto pieno di peli ma ragazzi vi dico una cosa secondo me ludovico piace parecchio anche così non so non devo essere io a giudicare non lo guardo per questo cerco di guardarlo come attore penso che stia migliorando con il passare degli anni solo una cosa io amo il romano amo l'accento romano che comunque però cambia negli anni perché qualche anno fa non era così ma un po di dizione un pochino perché veramente è un accento ma non per lui è tantissimi questo è l'accento dei trapper la dark polo gang trappa allo stesso modo nello stesso modo in cui tanti attori giovani romani parlano è veramente troppo marcato amo il romano amo roma amo la cultura roma romanara però è troppo a parte questo penso stia migliorando io lo lo stimolo apprezzo dai tempi di tutto può succedere in cui interpretava il fidanzato di un'altra star di netflix amata dai giovani e dalle giovani benedetta porcaroli quindi grande ludovico che è veramente una star e rivedremo in quest'altro film che ho già citato tante volte e che credo faccia la sua ottima figura in questa serie in cui interpreta un un pilota un motociclista costretto però a passare la sua intera infanzia adolescenza e forse anche giovinezza sulla motocicletta per su decisione del padre abbiamo anche toni per esempio come attrice in questo film in questa serie ve lo dico perché vi ho parlato di tutto può succedere insomma lei musicista attrice io la adoro anche come attrice proprio cinematografica tutti i santi giorni di paolo verzi momenti ritrascurabile felicità di daniele lucchetti di cui trovate la recensione film che non ho amato all'epoca ma in cui ho amato lei che per me è veramente bravissima e dunque abbiamo giuseppe giacobazzi vicino quegli attori magari secondari ma che c'entrano molto con la commedia italiana col cinema italiano mi piacciono però tanto questi attori giovani che si che rivediamo spesso questo è vero è una critica che gli haters fanno molto ai film e alle serie netflix il fatto che gli attori si ripresentino come in spagna ma io sono contento perché sono attori giovani che vediamo che rivediamo che vediamo crescere che vediamo anche migliorare penso che sia un'ottima serie anche dal punto di vista recitativo mi aspettavo molto molto peggio perché avevo letto critiche da questo punto di vista non sono assolutamente d'accordo non tutti recitano bene non tutti hanno momenti eccezionali non entro nello specifico perché non se lo meritano non se lo meritano hanno fatto sono sicuro che abbiano dato tutti il massimo il meglio di sé e voglio fare i complimenti anche alla regia curata come vi ho detto da un attimo è lorenzo sportiello e francesco laggi scusatemi se l'ho rivisto non me lo ricordavo ma sono due bravissimi registi mi hanno veramente stupito perché ci sono delle bellissime inquadrature delle bellissime riprese del mare dell'estate del caldo estivo ragazzi non devo dirvi nient'altro sulla trama sono tanti amori tante storie tante amicizie tante avventure che si intrecciano in estate c'è anche tanto lavoro dal lavoro come motociclista di tersigni che si chiama come me alle quindi insomma poi questo il soprannome del mio nome che amo di più alle quindi quanto è bello sentire alle 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 per otto puntate e c'è tanto lavoro c'è il lavoro come come barista c'è il lavoro come lavoro per esempio che che fa il personaggio di giuseppe giacobazzi che vende vari oggetti utili all'estate e insomma c'è c'è tanta estate e questo è molto molto importante secondo me questa è la cosa più importante siamo a luglio quindi se non avete visto questa serie vi invito a farlo perché siamo nel pieno siamo in totale summertime io gli do un bell'otto assolutamente sì otto perché è una bella serie che mi ha stupito mi aspettavo non mi aspettavo una brutta serie non mi fido delle critiche che fanno i fenomeni da tastiera e le uomini da tastiera però mi aspettavo una serie un po piccolina un po ecco godibile nulla di più ho trovato una bella serie che ha saputo emozionarmi con bravi attori giovani e non solo ma soprattutto tra i giovani tanti attori belli che nel corso del tempo migliorano sanno crescere ludovico in primis cito lui perché è la star per eccellenza ma tanti altri e che ha saputo conquistarmi e l'ho amata quindi quando c'è l'amore per me non ci deve essere nient'altro però a parte le mie opinioni personali penso che sia una serie da non perdere se l'avete vista fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ragazzi ci vediamo con la recensione di sotto il sole di riccione tra due tre giorni dopodiché ve l'ho promesso lo farò recensione di sapore di mare di carlo vanzina che rivedrò nuovamente l'ho già visto due volte quest'estate e ve ne parlerò anche perché sotto il sole di riccione enrico vanzina mica non stronzo qualunque il grandissimo enrico vanzina l'ha definito il sapore di mare 2.0 è un'altra dedica anche se magari un po meno esplicita di natale a 5 stelle a carlo vanzina grande carlo tra qualche giorno ricorre il secondo anno dalla sua scomparsa e ogni volta a me scende la lacrimuccia infatti mi commuovo un po a parlarne e c'è un video se volete che ho caricato un anno fa dedicato a carlo il gentiluomo del cinema italiano se volete recuperarlo che non è andato molto bene ma vi invito a farlo soprattutto voi chiamate il cinema italiano la commedia italiana e noi ci vediamo presto appunto con questa recensione ciao a tutti sempre comunque vive il cinema italiano e viva netflix quanto cacchio mi piace netflix che continua a dare possibilità anche al cinema italiana al cinema ai film italiani rimetti a noi i nostri debiti è stato il primo film prodotto se non sbaglio italiano da netflix con marco giallini caldo santamaria e sono passati due anni due anni e mezzo e devo dire che il percorso del nostro della non posso dire il nostro cinema dei nostri film delle nostre serie sta migliorando sempre di più grazie a netflix ciao a tutti e sempre vive il cinema italiano